La Calabria nelle top 5 delle regioni italiane con la migliore reputazione turistica a livello internazionale negli ultimi 5 anni e posizioni lievemente più basse per la reputazione a livello nazionale. La classifica, basata su 15 indicatori reputazionali che vanno dalla dimensione della governance a quella della cultura, della persona e della sicurezza, per citarne solo alcuni, è frutto di una ricerca presentata da Mauro Albisi, presidente del Dipartimento Europeo della Reputazione e fondatore e presidente di Medita Hub, nell'ambito del secondo appuntamento La Calabria che vogliamo, ospitato dal Senato della Repubblica. Al centro dell'analisi, gli indicatori reputazionali regionali e il loro legame con lo sviluppo economico, perché la reputazione è una moneta capace di trasformare un territorio poiché incide anche sull'economia. Ogni 5 punti di indicatore reputazionale, che viene calcolato su una scala da 1 a 500, si registra un incremento del 3% del numero di visitatori. Mauro Albisi Le eccellenze che emergono fondamentalmente, forse la più importante è che la Calabria è capace non solo di attrarle con la sua popolazione, quindi l'eccellenza di questa popolazione e dei suoi prodotti tipici, e la terza grandissima eccellenza è la capacità di fidelizzare, è la regione italiana col più alto tasso di fidelizzazione dei pubblici italiani e stranieri, quindi questo è un grande dato reputazionale, perché per fidelizzare ci vuole un comportamento all'altezza. Non solo la Calabria, ma l'intero meridione potrebbe promuovere vari tipi di esperienze turistiche e culturali. Giorgio Sottira, vicepresidente e direttore generale Civita Cultura Holding. Se il meridione, se la Calabria riescono a spiccare il volo da un punto di vista turistico, questo è un dato assolutamente positivo, quindi si parte dalla reputazione, si afferma un branding, si fa marketing. Ci sono altri indicatori, sono evidenziati ad esempio nel rapporto della Banca d'Italia del dicembre 2018, che evidenziano anche la possibilità delle regioni meridionali di promuovere vari tipi di esperienza. I turisti, coloro che cercano vacanze culturali, cercano la tipicità, cercano delle esperienze vere. La Calabria e le regioni del meridione hanno una pluralità di centri, che sono interessanti da un punto di vista turistico e da un punto di vista culturale. La pluralità è un valore, ovviamente corrisponde a ciò una maggiore difficoltà nell'organizzare in maniera trasversale i servizi. Da Giuseppe Nucera, referente Federturismo Confindustria Calabria, quasi un appello ai calabresi che hanno lasciato la loro terra. Noi chiamiamo la nostra regione, dobbiamo insistere, dobbiamo agire per far emergere il positivo della Calabria. Ci sono molti pregiudizi. La Calabria non è terra di indrangheta, la Calabria è terra di cultura, è terra di gente onesta, laboriosa. I migliori calabresi sono andati via. Noi dobbiamo cercare di farli ritornare o che vengano e facciano delle iniziative perché abbiamo bisogno del loro aiuto.